Senatore Cantalamessa di nuovo a Casamicciola, di nuovo nel luogo simbolo della tragedia del 26 novembre dopo che già c'era stato qualche settimana fa, torna dopo l'approvazione del decreto, con quale obiettivo? Con l'obiettivo di sentire innanzitutto gli schitani, in particolare le persone di Casamicciola per vedere cosa ne pensano del decreto, che è una pronta ma iniziale risposta, non definitiva perché è chiaro che i fondi stanziati sono sicuramente un buon inizio, è chiaro che l'Isola Dischi ha bisogno di qualcosa di più quindi sono qui per ascoltare fondamentalmente e poi perché avevamo preso l'impegno che sta ritornato e quindi mi sembrava giusto e doveroso ritornarci. Come al solito quando si parla di cifre c'è sempre la battaglia dei numeri, chi chiede di più, chi dice che basta di meno chi vuole entrare nel merito di cosa servono poi effettivamente questi fondi quel che è certo ci diceva è che questo stanziamento riguarda solo una prima parte degli aiuti che sono necessari a mettere in sicurezza il territorio. Sì, io quello che ho detto anche in un intervento al Senato, gli schitani non vogliono né le mosse né le mancette però vogliono essere messi in condizioni di poter ripartire per tornare a una vita normale e soprattutto avviare una campagna turistica perché è la prima estate dopo due anni di Covid che potrebbe portare come merita Ischia tanti turisti sull'isola e quindi voglio dire su questo la politica deve fare la sua parte. Io ho presentato 11 emendamenti a mia prima firma sul decreto ricostruzioni chiaramente chi parla di condono, di abusivismo edilizio eccetera dimentica la prima pagina che ho detto al Senato del 27 ottobre del 1910 del quotidiano La Stampa nel quale si parlava della visita del rei fatta a casa Micciola per l'alluvione che c'era stata. Per cui voglio dire cambiamenti climatici, problemi di abusivismo edilizio sono problemi che non riguardano solo l'isola di Ischia ma riguardano tutta l'Italia e non c'entrano niente con la tragedia che c'è stata, io mi concentrerei su questa tragedia perché per questo ci pagano lo stipendio e non per fare le ghiacchier. I rapporti con il commissario sono praticamente quasi quotidiani e cercheremo di dare quello che serve al commissario e poi chiaramente chiederemo di farci sapere come vanno le cose per quel che riguarda sia le cose positive che le cose negative. È chiaro che comunque l'interlocuzione deve essere costante e duratura fino a quando non si ripristina lo stato ex-ante dell'isola prima dell'alluvione. C'erano state, la sentiamo parlare bene del rapporto con il commissario Legnini, ci sono delle forze politiche interne anche alla maggioranza che sembrano quasi chiedere la testa del commissario, sembrano non fidarsi al 100% di lui avendo innescato anche una polemica più che altro sulla ricostruzione post-sisma. Io credo che bisogna vedere in questo momento quello che unisce e non quello che separa per cui voglio dire le persone, tutte, i commissari, i politici, gli amministratori, gli imprenditori vanno misurati da quello che fanno e non solo da quello che si dice. Adesso siamo tutti alla prova dei fatti, politici, amministratori e il commissario per dare risposte all'isola che merita, quindi su questo voglio dire andiamo a vedere quello che è l'operato perché bisogna vedere quello che si andrà a fare.